Il conflitto israelo-palestinese ha radici molto antiche e deriva dal fatto che abbiamo due popoli, quello ebraico e quello palestinese, che si contendono la stessa terra, ciascuno rivendicando propri titoli di legittimità. Per gli ebrei è fondamentale quella terra perché è la loro terra santa e soprattutto individuano nell'antico tempio di Salomone, quello che sorse intorno alla metà del X secolo a.C., il loro punto identitario fondamentale. L'ebraismo nasce e si consolida attorno a quel tempio, che però verrà raso al suolo pochi secoli dopo. All'inizio del VI secolo a.C. arrivano i babilonesi, direi Nabucodonosor, radono al suolo il tempio e deportano gli ebrei in Babilonia. La cattività babilonese durerà 50 anni, gli ebrei torneranno in Palestina e subito ricostruiranno il secondo tempio, quello che poi verrà fatto ampliare da re Ero del Grande, di cui si parla nei Vangeli, il protagonista del massacro degli innocenti, e che poi però a sua volta verrà fatto radere al suolo dai Romani nel 70 d.C. con il generale Tito che poi diventerà imperatore. È una data molto importante quella perché nel 70 d.C. con la distruzione del tempio e della città comincia la diaspora ebraica, per cui gli ebrei si diramano un po' ovunque, però perdono il contatto con il loro territorio. L'impero romano poi diventerà cristiano, diventerà bizantino, in terra santa e a Gerusalemme cominceranno a sorgere i primi luoghi cristiani, pensiamo soprattutto al santo sepolcro. Nel VI secolo, anzi nel VII secolo scusate, nel 638 c'è un altro terremoto politico, arrivano gli arabi, l'espansione musulmana è fulminea e nel 638 il califo Mar arriva anche a Gerusalemme e lì cominciano a nascere i primi luoghi di culto musulmani e quindi la famosa moschea di alaxa, riconoscibile dall'alto per la sua tipica cupola nera, e la cupola della roccia, riconoscibile invece per la sua cupola dorata, la famosa spianata delle moschee, e dove installano questi luoghi sacri musulmani proprio sul luogo sul quale un tempo sorgeva l'antico tempio di Salomone e poi anche il secondo tempio, per cui abbiamo il medesimo luogo, la spianata delle moschee, per così dire conteso da due grandi religioni monoteistiche. A quel punto la Palestina e Gerusalemme rimangono musulmane sostanzialmente fino al ventesimo secolo, fatta eccezione per una piccola parentesi che dura 100 anni di dominio crociato. La Palestina e Gerusalemme rimangono musulmane fino alla nascita dello Stato di Israele. Correva l'anno 1947 e l'ONU in quell'anno approva una famosa risoluzione, la risoluzione 181, la quale prevedeva di creare in Palestina due grandi stati, uno per gli ebrei e l'altro per i palestinesi, perché era dagli anni venti che l'emigrazione ebraica in Palestina era massiccia, coadiuvata e avvallata dalle autorità britanniche. Quella risoluzione 181 venne approvata a maggioranza, 33 voti favorevoli, 10 astenuti e 13 contrari. I 13 contrari però raggruppavano sostanzialmente tutti i paesi islamici. Nel 1948, sulla scorta di questa risoluzione dell'ONU, David Ben Gurion ufficializza la nascita dello Stato di Israele. Gli arabi assolutamente non ci stanno, si scatena subito la prima guerra arabo-israeliana, 1948, che Israele vince, guadagnandosi così il diritto a rimanere su quella terra. Vince ma non è una vittoria definitiva, perché successivamente, negli anni che seguirono, scoppiarono altre quattro guerre. Nel 1956 la guerra di Suez, nel 1967 la famosa guerra dei sei giorni, nel 1973 la guerra dello Yom Kippur e nel 1978 la guerra di Libano. In tutte queste guerre Israele ne uscì sempre vincitore e anzi riuscì anche ad ampliare i propri confini, ottenendo delle terre non previste dall'ONU in quella risoluzione 181 e quindi occupa la Cisgiordania, per esempio, e la Striscia di Gaza, le cosiddette terre occupate. Negli anni successivi ci sono stati dei tentativi di avvicinamento tra palestinesi e israeliani, ricordiamo soprattutto gli accordi di Oslo del 1993, in cui israeliani e palestinesi cominciano a riconoscersi a vicenda. Ma al tempo stesso la violenza continuava ad esplodere, perché in quella guerra dei sei giorni Israele arriva a impossessarsi anche di Gerusalemme e quindi ottiene il controllo della spianata delle moschee. Il controllo della polizia israeliano, l'accesso è libero per i fedeli musulmani, però questo continuando i rivieni naturalmente crea tensioni a non finire. E quindi negli anni che seguirono ci furono coloni israeliani che continuarono ad aumentare di numero nei territori palestinesi, ci fu una prima intifada, una seconda intifada, ci furono una serie di attacchi terroristici, ci fu anche l'assassinio di Isaac Rabin nel 1995 ad opera di un estremista ebreo. Così come accadde a suo tempo con Sadat, ad opera in quel caso di un estremista musulmano. Nel 2004 muore Arafat e questo provoca un terremoto politico. A Gaza prende il potere il gruppo terroristico di Hamas, Israele immediatamente pone il blocco alla striscia di Gaza, nulla può entrare, nulla può uscire, facendo di Gaza sostanzialmente una grande prigione a cielo aperto. E a quel punto il copione è sempre il modesimo. Negli anni che seguirono, dal 2005 in poi, ciclicamente cominciavano a partire dei razzi, i razzi Kassam, oppure dei colpi di mortaio che andavano ad abbattersi sui civili israeliani, ogni volta ottenendo una reazione particolarmente forte e vemente da parte di Israele. Ricordiamo tutti probabilmente nel 2008 l'operazione Piombo Fuso, fino ad arrivare alla cronaca purtroppo recente. Il 7 ottobre 2023 Hamas dà vita all'operazione alluvione Al-Aqsa, richiamandosi ad un presunto episodio di profanazione della moschea di Al-Aqsa operata dalla polizia israeliana per mettere dei faccini rosi in condizioni di non nuocere, facendo irruzione nella moschea stessa. Il resto purtroppo è cronaca odierna e speriamo di non entrare in una spirale di violenza senza fine.